Buongiorno FTI Online, avvio incerto questa mattina per la borsa, il Fuzzimib infatti in questo momento è sostanzialmente in parità, siamo intorno ai 19.015 punti, con un calo dello 0,08%, se andiamo a guardare il grafico in 3D dell'Indice ci accorgiamo che sostanzialmente questa situazione di incertezza dura ormai da molte sedute, una fase laterale intrapresa a partire dal 16 febbraio con un baricentro intorno ai 18.950 punti, limiti superiore ai 18.019, 130 e inferiore ai 18.8 circa, ma se andiamo a guardare l'Indice in un'ottica temporale più dilatata ci accorgiamo che questa situazione è il risultato del completamento del doppio massimo che i prezzi avevano disegnato in area 19.800 nel corso del mese di gennaio. Una situazione di questo tipo potrebbe quindi essere semplicemente una pausa del precedente ribasso, ovvero sia un momento introduttivo ad una nuova fase di calo, se le quotazioni dovessero scendere al di sotto dell'importante supporto del 38,2% di risarciamento del rialzo dai minimi di novembre, quindi se dovessero violare il supporto di area 18.390, questa situazione di debolezza verrebbe ulteriormente confermata con la prospettiva di andare a ricoprire il gap rialzista che si era aperto il 7 dicembre con una base a 17.757 punti. La situazione grafica dell'indice della Borsa italiana tuttavia è abbastanza anomala nel contesto generale, perché se andiamo a guardare ad esempio l'indice DAX, ci accorgiamo che a fronte di una sostanziale incertezza di movimento da parte della Borsa italiana, quella tedesca ieri invece ha fatto registrare nuovi massimi e anche questa mattina continua a comportarsi sostanzialmente bene. Notiamo che il DAX è estremamente vicino ormai ai massimi che aveva toccato nel 2015, siamo in prossimità dei 12 mila punti e vediamo anche come la tendenza recente abbia evidenziato una netta accelerazione rispetto al tasso di crescita che i prezzi avevano mostrato nei mesi precedenti, infatti se andiamo a disegnare questo canale crescente, ci accorgiamo che parte dai minimi del febbraio 2016, ci accorgiamo che il lato alto del canale è stato prima superato nel corso del mese di gennaio e adesso abbandonato decisamente in favore di un'ulteriore accelerazione rialzista. È quindi possibile ipotizzare un nuovo canale maggiormente inclinato rispetto al precedente che con il suo lato superiore a 12.155 punti fornisce il prossimo target per il rialzo, ma attenzione perché in base al metodo del raddoppio dei canali, ovvero la proiezione dell'ampiezza del canale nel momento in cui questo viene rotto dal punto di rottura per ottenere un target, è possibile ipotizzare il ritorno sui 13.000 punti da parte del DAX in tempi relativamente brevi, quindi il raggiungimento di A12-150 potrebbe essere solo un intermezzo prima di un'ulteriore progressione rialzista verso i 13.000 punti. Se torniamo nuovamente sul nostro Fuzimib e guardiamo il grafico di forza relativa che mette in rapporto l'indice della borsa domestica con il DAX, ci accorgiamo che dopo un tentativo di ripresa della forza relativa che si era visto nella parte finale dello scorso anno con la borsa italiana che stava cercando di sovraperformare quella tedesca, nelle ultime settimane è invece ripresa questa tendenza negativa che non è altro che il proseguimento di quella che si era vista dai massimi della fine del 2015, quindi una borsa italiana decisamente in difficoltà rispetto a quella tedesca con una situazione di debolezza che probabilmente sarebbe ben peggiore in questa fase se il DAX non fornisse un supporto esterno alla tenuta del nostro indice, quindi nel momento in cui la forza del DAX dovesse venire meno anche solo per una fase correttiva data il rapporto di forza relativa che lega questi due indici, ci sarebbe un rischio di una effettiva realizzazione di un calo da parte della borsa domestica. Ulteriori confermi in questo senso ci vengo dallo studio dello Stoxx 600, l'indice forse più rappresentativo della situazione borsistica europea, in questo caso come per il DAX possiamo fare considerazioni relativamente al cambiamento di velocità di crescita che c'è stato nel corso dell'ultimo periodo, sullo Stoxx 600 avevamo un canale crescente che partiva anche in questo caso dai minimi di inizio 2016, il lato alto di questo canale è stato superato e i prezzi si sono portati ieri e questa è sicuramente una nota di assoluto interesse al di sopra del 61,8% di ritracciamento del ribasso che invece avevano disegnato le quotazioni dai massimi dell'aprile 2015. La rottura di questa resistenza che vediamo è avvenuta con una decisa accelerazione proprio nella seduta di ieri, potrebbe essere introduttiva ad una ulteriore fase di crescita che avrebbe come obiettivo non solo i massimi che i prezzi hanno toccato a inizio 2016, quindi non solo il ritorno in area 387, ma anche più probabilmente il ritorno proprio sui massimi del 2015, quindi i movimenti nuovamente in area 415. Per quello che riguarda la Borsa Europea, quindi ci sono prospettive di crescita molto interessanti che però l'indice Fuzzini per il momento non ha saputo cogliere. Una spiegazione o perlomeno una dimostrazione del fatto che ci siano tensioni abbastanza evidenti sul sistema Italia, ce la dà anche l'andamento dello spread tra il BTP e il Bund, nella parte alta del grafico che abbiamo una rappresentazione grafica dello spread derivata dal rapporto di forza relativa tra i due future e vediamo come dopo una fase di sostanziale lateralità che aveva interessato tutto il 2015 e il 2016, nel corso delle ultime settimane lo spread abbia ripreso a salire in modo deciso, superando questa forte area di resistenza. Il rischio di un proseguimento della fase di rimbalzo esiste, infatti su questo grafico è possibile identificare una sorta di doppio minimo e se questo dovesse essere effettivamente confermato, come sembra, dai movimenti attuali, il raggiungimento di livelli ben più alti di quelli attuali sarebbe assolutamente possibile. Quindi un'attenzione generalizzata sul sistema Italia che sembra destinata a proseguire, in questo momento forse potrebbe essere interessante, come abbiamo visto, rivolgere l'attenzione in ottica di investimento più sull'estero, quindi sui mercati, altri mercati europei come il DAX oppure strumenti collegati allo Stoxx 600 per avvantaggiarsi della situazione di forza che c'è su quei mercati. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo buona giornata e vi diamo appuntamento a domani con il nostro consueto commento giornaliero.